Lo voglio vedere arrivare fino al top e noi lo vediamo di noi E allora tutto Bressanone, fuori il fiato, fuori le mani, fuori tutto quello che avete Perché bisogna celebrare qualcosa di epico nella notte di Bressanone con Tommy Roberts Bisogna essere un'unica emozione con lui, bisogna essere un'unica vita che si realizza nei prossimi 48 secondi Bressanone non vi sento, Tommy Roberts ha bisogno di voi Dicei, spacca le casse perché dobbiamo creare un miracolo che si chiama Tommy Roberts Voglio vedere la bandiera che si alza, questa sera che si alza Voglio vedervi tutti quanti in questo momento perché si sta creando un carico Si sta creando una vita, si sta realizzando un sogno Voglio vedere la bandiera che si chiama Tommy Roberts Voglio vedere la bandiera che si chiama Tommy Roberts Come va bene, come va bene, come va bene